Al Marchese del Prete di Venafro si aprono i play-off del campionato di eccellenza. Ad affrontarsi sono i padroni di casa e il sesto campano in una gara davvero bella, dove però ha prevalso il Venafro con una larga vittoria che ammenda a 5 reti a 1. Ad arbitrare la gara è Agostino De Santis della sezione di Campobasso, coadiuvato dalla Donofrio e Viotti. Il match parte subito forte con questa occasione di testa di Ricci Tiello, parata però da Russo. Risponde il sesto campano al diciassettesimo con Gorotas che servito da Guastaferro non inquadra lo specchio della porta, ma al venticinquesimo il Venafro inizia a segnare cross di Galardi che arriva a Tino che con la testa incorna per l'1-0. Al trentanovesimo ancora i bianconeri, Vallone serve Ricci Tiello che con la testa sfora un bellissimo gol. Poco male perché giusto un giro di lancetta e più tardi Vallone riesce a trovare il gol, così mette la firma sul 2-0. Terminano così i primi 45 minuti di gioco e con le immagini ci proiettiamo alla ripresa. Al nono ci prova il nuovo entrato del sesto campano, Grieco, con un gran tiro ma precisa. Arriva l'ottima risposta di Roncone che salva il risultato, ma non lo potrà fare al ventesimo dove Crispino viene atterrato in area di rigore e per il direttore di gara non ci sono dubbi e assegna il penalty. Sul dischetto si presenta Rea che non fallisce. Dopodiché non succede più nulla fino al trentaduesimo dove il Venafro inizia a dilagare. Prima con Ricci Tiello trova il 3-1 con un gran gol di precisione assoluta e al trentasettesimo trova anche il 4-1, sempre con Ricci Tiello che servito da Navarro sigla la sua doppietta personale e a chiudere i giochi è Petrone che al quarantadresimo sul calcio di punizione dopo un palo sigla il gol del 5-1 con il quale termina la gara. Venafro che passa la finale con il Treppini dimostrando di essere stata la migliore molisana in eccellenza. Sesto campano che nonostante questa sconfitta è contento del proprio campionato disputato.